Sabato 15 dicembre alle 18 presso la chiesa di Santa Maria Ingradi ad Arezzo, il coro Strane Voci diretto dal maestro Luisella Orsini e con l'accompagnamento del pianista Matteo Trimigno eseguirà musiche natalizie e non solo per la gioia di grandi e di piccoli. Sì, sarà un sabato particolare, un sabato sicuramente all'insegna della musica, quindi ci saranno musiche natalizie ma non solo, è un coro che poi è la voce della filarmonica Guido d'Arezzo diretta dal maestro Luisella Orsini con l'accompagnamento del pianista Matteo Trimigno che colgo l'occasione per ringraziare, che sono prestati per un concerto in favore di Casa Tevene. L'ingresso sarà ad offerta libera sabato 15 dicembre nella chiesa di Santa Maria Ingradi nel centro storico di Arezzo alle ore 18. L'ingresso ad offerta libera, lo ricordiamo, permetterà a Casa Tevenin di raccogliere fondi per l'installazione di un ascensore a Palazzo Subiano. Sì, stiamo lavorando a questo progetto, dovremo adeguarci alle normative vigenti, quindi il consiglio di gestione ha deliberato l'installazione di questo ascensore e anche questa iniziativa andrà in quell'ottica di raccogliere fondi, visto che ce ne vogliono anche tanti, per installare appunto questo ascensore a Palazzo Subiano qui in via Sasso Verde. Grazie.